La più grande donazione da un privato per il Teatro del Maggio Musicale è stata annunciata proprio nella Sala Zubi in Meta. Non a caso, visto che a fare la donazione è stata sua moglie Nancy. Lei che cosa ha provato? Sono venuto! Lei era molto grata che tutto che è successo a me a Firenze. Mia moglie apprezza moltissimo la mia felicità in questa città. Perché questa donazione? Le domando. Solo un'idea risponde. Viviamo in un mondo normale. Mi è venuta così forte in una sola frase. Dovevo dare questo milione a questo teatro. Sto qui da moltissimi anni, racconta, e ho visto la nascita di questo teatro, la sua crescita ed evoluzione. E questo l'ha toccata profondamente. Un milione di dollari, ovvero il valore di 850 azioni Tesla, un gesto scaturito dalla commozione, al momento che Nancy Kovac, consorte del maestro Meta, una lunga carriera nel cinema e nella televisione in America, ha saputo che il nuovo auditorium del maggio sarebbe stato intitolato a suo marito. Ma anche un esempio, che si vorrebbe che molti seguissero, magari lo stesso patron di Tesla, Elon Musk. Penso che Musk, che è stato a Firenze l'anno scorso e chiama questa città, potrebbe, perché no, anche lui rilanciare e fare un grande gesto di amore verso Firenze e verso questo teatro. Mi hanno detto, guardo, Alexander, noi vorremmo dare in azione un milione di dollari a questa nuova sala, anche come ringraziamento a Firenze. Io piangevo in questo momento, io le abbracciate.